Piloti storici della Superstock 1000, Vittorio Iannuzzo. Nato ad Avellino il 10 maggio 1982, si fa conoscere per i risultati discreti ottenuti in Supersport, vista la sua giovane età. Il 600 corre dal 99 al 2001. Nel 2002 corre nell'europeo Stock 1000, vincendo 4 gare e dominando il campionato. Nel 2003 corre qualche gara in Superbike, non sfigurando affatto. Il resto della sua carriera lo passa tra Supersport, Superstock, nella quale tornerà a correre con MV Agusta e Superbike, non ottenendo mai tuttavia i risultati sperati.